Grazie Presidente, semplicemente per aggiungere la mia voce al plauso che questa relazione ha raccolto nell'Aula in relazione alla necessità di rafforzare la capacità dell'Unione Europea di essere un luogo dove è possibile investire, produrre e produrre nell'ottica della nostra concezione di un'economia inclusiva socialmente e ambientalmente sostenibile. Quindi credo che alcune indicazioni qui siano in questo provvedimento molto utili, altre possono essere aggiunte e credo che sia importante raccogliere questa indicazione, lavorare sempre più perché l'attrattività sia la conseguenza di politiche territoriali, di marketing territoriale, di apertura che siano da parte del territorio la proposizione di una vocazione produttiva, industriale, manifatturiere e di servizi che nascendo dal territorio sia rispettosa di tutte le compatibilità ambientali e insieme politiche europee che vadano in questa direzione. Dal territorio e dall'Europa una voce che sia di attrazione per gli investimenti e per la crescita. Grazie.